No Limit Texas, Nino Laern alle prese, poi all'esterno Only Cast, No Limit Texas che ha respinto Nino Laern, adesso a terzo in costa è Only Cast davanti al numero 4 di Off Limits Room con Odarling F che sta puntando in avanti. No Limit Texas che guida Odarling F che va a vedere che aria tira, Nino Laern messa bene là sotto davanti a Only Cast, 400 in 29,2 con No Limit Texas e Odarling alle prese, quando i cavalli adesso giungono ai 600 di gara. 14,8 anzi per questo paletto fa 44, la corsa viene movimentata perché Odarling F non ha sbagliato e quindi No Limit Texas non può fermare quando si arriva così agli 800 di gara, passati in 58,9, 29,7 per questo paletto. Non c'era stato strappo ma poi è arrivato Odarling che continua a punzecchiare No Limit Texas, lungo lo steccato sempre Nino Laern davanti a Only Cast, poi Off Limits Room, il 5 Oder Almar chiude Nonna Pina. 15,4 anche per questo paletto fa 1,14,3 il primo chilometro dalla battistrada No Limit Texas, non ci sono segni di cedimento e quindi Odarling F deve essere richiesta. Adesso però i due mettono mano alla frusta, tant'è che Nino Laern sembra la cavalla messa meglio, anche Only Cast di dentro. Adesso No Limit Texas ha debellato le resistenze di Odarling e cerca di scappare da Nino Laern che ci prova di dentro Only Cast, No Limit Texas però tiene ancora il comando No Limit Texas che va a vincere nei confronti di Nino Laern e poi del 6 Only Cast. 1,14,3 ancora 30 a chiudere dopo il 30 per il penultimo quarto, la posizione e la qualità fanno la differenza in questa terza corsa di Montegiorgio, vincendo No Limit Texas, Fabrizio Ciulla su Nino Laern e poi Only Cast. È tutto.